Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di recap, ovvero di riassunto della giornata di venerdì 7 agosto. Che cosa è successo? Iniziamo dal Fuzzimib. Come vi avevo segnalato nell'analisi di questa mattina, in violazione di questo minimo, avremmo valutato uno short se i tempi ciclici fossero stati corretti. E quindi abbiamo portato a casa una bella discesa. Peraltro, oltretutto, avevamo un livello di algoritmo proprio in questa zona, per cui appena ha iniziato a cercare di fare una candelina verde, abbiamo immediatamente chiuso, sapendo oltretutto che nel pomeriggio è meglio evitare appunto di fare cose strane. E che cosa è successo? Durante il pomeriggio abbiamo avuto delle sparate all'insù. Ok? Qui, questa è la candela del 14.30 con i dati americani, è stata una shooting star, oltretutto, che si è scontrata con le due medie mobili, e vi faccio notare che temporaneamente la rossa è andata in death cross, e siamo andati in death cross temporaneo. Poi però, c'è stata una rottura di nuovo con volumi, e siamo andati a finire persino sopra questo swing. Ovvero, tutte le volte che c'è un segnale di rottura forte e valido, come anche quello che avevo descritto in precedenza, ovvero la rottura di questo swing che è molto importante, quello del 19.377, successivamente si fa una finta di discesa e poi, boom, si ritorna a salire, oltretutto andando in violazione di altri swing importanti, per cui si cerca di buttare e gettare fumo negli occhi. Ma facciamo delle riflessioni interessanti. Ovvero, dato che siamo arrivati comunque al quinto t-3, con quarto e quinto t-3 ribassisti, abbiamo chiuso un t-1 lungo, perché sappiamo che un settimanale può arrivare al massimo 11 giorni. E che cosa sta succedendo? Stiamo avendo il minimo di 24 candele da 24 barre a rialzo, o laterali rispetto a questo minimo, che sta lanciando il secondo t-1. Secondo t-1 perché questo è stato il primo fino a questo minimo qua. A questo punto, dal lunedì in poi, dovremo vedere se torneranno a prevalere gli short e la discesa. Per quale motivo? Per il fatto che comunque abbiamo avuto, per quanto riguarda il controllo sull'inverso, 1, 2, 3 t-3, di cui questo, peraltro, ribassista, ovvero rialzista di indice, che può aver chiuso un t-1 e da qui può star per partire un altro t-1. Io ci metto ancora un quarto t-3 comunque e l'orario della partenza alle 16.45. Per cui queste sono le prime considerazioni. Comunque noi ci siamo presi uno short in violazione di questo minimo e ha fatto il suo bel lavoro. Per quanto riguarda invece il DAX, la rottura è avvenuta ai me tardi, ma noi abbiamo preso questo swing per la rottura stessa. Per cui comunque ci siamo portati a casa qualche cosina, non tanto, ma qualche cosa l'abbiamo preso. Il discorso sul DAX è che abbiamo molta più forza, infatti anche in questo caso il settimo t-3 ha sparato tanto su di nuovo. Dopo la violazione di 1 e 2 swing di poco, vi faccio notare che se mancano i volumi, si ritorna indietro. Guardate oltretutto qui che candela ha fatto. Questa di nuovo è fantastica, è una gravestone, ok? Il discorso è che però dopo la gravestone bisognerebbe scendere e invece non si è scesi, non si è andati in death cross come è successo invece su Fuzzimib e abbiamo continuato a salire. Anche in questo caso ci sta il discorso relativo a un'eventuale chiusura prossima di t-1. Certo, un po' anomala, comunque anomala come è il movimento, anche se simile comunque a quello che abbiamo visto però al terzo t-3 su Fuzzimib. In questo momento qui possiamo mettere tranquillamente almeno t-1, giusto per non fare cose strane. Qui però i giochi sono ancora tutti in essere, perché la situazione è di una forza un po' più alta ed è per quello che bisogna capire se qui è partito qualcosa di più di un t-3, perché qui abbiamo la condizione minima per la chiusura di un settimanale, oppure no. Peraltro, se andiamo a vedere le candele, qui abbiamo superato le medie mobili, altro segnale di forza e siamo usciti fuori dall'accumo. E se andiamo a prenderci, ah qui non c'è ancora la candela probabilmente, comunque anche qui, esatto, non c'è la candela di oggi, qui siamo arrivati a 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele, avendo nel frattempo aggiornato un minimo e quindi avendo una condizione minima per la chiusura comunque del nostro t settimanale. È un po' corto, a mio avviso è un po' corto. Bisognerebbe andare a chiudere prima di tutto il t-1 inverso con un superamento eventuale di questo massimo o di questo, ma siamo ancora a 11 barre. Siamo ancora soltanto a 2,45 ore sul minimo 21-22 barre, quindi ci mancano ancora 2 ore e mezza orientativamente. Minimo, minimo, eh. Parlo sempre di durate minime. Per cui attenzione, qui la situazione è molto più complessa rispetto al Fuzzimib su cui eventualmente avrei messo persino un chip short, però regole non si opera a prendo posizioni il venerdì, a meno che non ci siano occasioni estremamente golose. Su DAX non le vedo. Su Fuzzimib, ecco, sarebbe stato più interessante, anche se, comunque se avete guardato i future, sono positivi. Quindi, ecco, bisogna sempre fare molta attenzione, anche perché questa è una condizione sufficiente per la chiusura di un inverso, di un t-1 inverso, ma in realtà nulla ci vieta di poter andare a tornare sopra questo massimo dopo aver fatto un t-5 inverso laterale rialzista e vincolare il quarto t-3 inverso già a ribasso il vero rialzo di indici, soprattutto con le medie mobili che sono così vicine. Per cui, anche oggi comunque, in mattinata, siamo riusciti a portarci a casa due short validi, uno molto più valido ovviamente dell'altro, per cui, ottimo lavoro. Siamo arrivati al 7 di agosto, oggi l'otto, e continuiamo a produrre gain. E anche per quello che ovviamente, nonostante i detrattori provino a dire le loro cose, la community cresce e le persone che hanno deciso di dedicarmi più tempo continuano a dedicarmene sempre di più. Perché se le consulenze che posso offrire e se gli insegnamenti che posso offrire sono validi, ma perché non utilizzarli? Soprattutto se pagano più di quello che costano. Soprattutto in termini di formazione. E questo è il discorso che è molto semplice. Ed è anche quello il discorso che rovina tanti trader. Ci sono tanti supposti trader super in gamba che però poi al lato dei fatti non combinano un tubo. Per cui, ecco, rifidate sempre da chi vi racconta di favolosi guadagni costanti, mensili, costanti nel tempo, tipo, che ne so, farete con me il 10, 15, 20% tutti i mesi, sono sciocchezze, perché il mercato si muove in maniera estremamente differente, con un ritmo estremamente diverso di volta in volta. Ci sono momenti in cui c'è una lateralità spaventosa, non come questi giorni, per cui è un'assurdità già di partenza a cui possono credere soltanto gli ingenui che ancora non conosce questo genere di attività e di trade. Per il resto, vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando a domenica, probabilmente appunto per le analisi settimanali su Futsimib, Dax, Bitcoin, e stanno nell'imposto 500, spero di riuscire a farle tutte. Buona serata a tutti.